per la fine dell'anno fatevi furbi programmate i messaggi di auguri andate su telegram e aprite la chat delle persone a cui volete mandare gli auguri e scrivete il vostro messaggio fatto questo non dovete inviarlo ma tenere premuto sul messaggio di invio e cliccare programma messaggio qui impostate 1 gennaio alle ore 00 e 00 dopodiché premete invia questa funzione è disponibile anche su iphone e facendo così con tutti gli amici e parenti alla mezzanotte potrete festeggiare tranquillamente